Simone Magnaghi, benvenuto, anzi, bentornato in Nero Verde. Grazie mille, sono molto contento di essere tornato, è un enorme piacere e non vedo l'ora di iniziare questa nuova avventura. Appunto hai appena prolungato il tuo contratto fino al 2024, sei sempre stato Nero Verde anche in questi anni, che sensazioni hai? Beh, innanzitutto sensazioni molto positive e ci tengo a ringraziare in primis la società per l'enorme fiducia che ha dimostrato in me, rinnovandomi subito il contratto e starà a me adesso ripagare tutta questa fiducia in campo. Sei rende, c'è da una stagione super, 16 renti e 4 assist con il Ponte d'Era. Cos'è rappresentato questo campionato per te? Un salto di qualità importante? Sì, sicuramente è stata una stagione importante, una stagione nella quale mi serviva a fare un buon numero di gol, quindi è stata una stagione positiva e adesso l'obiettivo è replicare questi numeri nella mia nuova avventura in Nero Verde. Ti ritroviamo padri di due bambini, una doppia responsabilità in più insomma. Sì, decisamente. Da due anni sono diventato babbo, papà, di due splendidi bambini e quindi c'è maggiore responsabilità ma allo stesso tempo anche più consapevolezza e non vedo l'ora insomma di rivederli allo stadio. Con il Pordenone avevi disputato un bienio importante e lo ricordiamo bene, avevi un bellissimo rapporto con tutto l'ambiente. Da che cosa riparti e con che motivazioni? Sicuramente riparto da quel bienio, da quello che si era creato e instaurato sia con la gente che con gli addetti ai lavori e insomma lavorerò al massimo per far sì che sarà un bienio ancora più rosio e ricco di successi. Ultimo flash, cosa ti ha detto il mister di cambio? No, ha detto insomma che avremo modo per conoscerci però insomma che c'è grande fiducia e io ripeto questa fiducia devo ridimostrarla sul campo.